Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di The Witcher. Coloro che si avvicinano e si sono avvicinati al variegato universo di The Witcher attraverso la serie Netflix hanno imparato a conoscere l'impero di Nilfgaard come il grande antagonista, come un impero aggressivo, spietato, determinato a spazzare via chiunque gli si opponga, quasi uno stato criminale. Questa interpretazione del materiale ideato dall'autore polacco Sapkowski è un po' eccessiva e generalmente forzata. L'impero di Nilfgaard è una compagine poliedrica, potentissima sul lato militare, ma anche raffinata a livello culturale. In questo video cercherò di darvi un quadro il più chiaro possibile dell'impero, del grande sole. Iniziamo dalla posizione geografica dell'impero. Nilfgaard, la città capitale dell'impero, nonché città eponima dell'impero stesso, si trova nella parte meridionale del continente dell'universo di The Witcher, abbastanza lontana quindi dai più celebri regni settentrionali quali, non so, Temeria, Redania, Cadwen e altri ancora. La storia di Nilfgaard è segnata da diverse conquiste territoriali. La sua espansione può infatti essere paragonata a quella di Roma Antica, la città a cui Sapkowski si è palesemente ispirato per molti aspetti nella realizzazione dell'impero nilfgaardiano. Nilfgaard era una città-stato che via via ha espanso i propri territori, inglobando città e regni limitrofi, come ad esempio Mitinna, Ebbing, Nazer, Vicovaro, Maekt, Toussaint e altri ancora. Alcuni regni furono direttamente inglobati nell'impero, con anessi governatori imperiali. Altri invece furono trasformati in feudi o stati vassalli, retti dal sovrano locale in nome dell'imperatore, come appunto il celebre Ducato di Tuissang, una terra pacifica e celebre per il vino, e soprattutto per l'atmosfera quasi fiabesca. Mano a mano che il regno cresceva, e con esso il potere militare delle legioni degli Oscuri, soprannomi dei nilfgaardiani, i confini si avvicinarono a quelli dei regni settentrionali, tra cui la celebre città di Sintra, retta dalla regina Calante. Come era prevedibile, l'impero e i regni erano destinati a scontrarsi sul campo di battaglia, e così in effetti avvenne. L'impero lanciò due offensive a Nord, tre se includiamo l'universo dei videogiochi realizzati da CD Projekt Red, per provare a piegare i vari regni. Sintra non poteva nulla contro le forze dell'imperatore Emirwar Emeris, la fiamma bianca che danza sulla tomba dei nemici. Altri celebri battaglie furono quelle di Sodden e di Brenna. In quest'ultima i regni settentrionali riuscirono a fatica a rispingere le schiere degli Oscuri. In The Witcher 3, in base alle scelte del giocatore, la terza guerra del Nord può finire in vari modi, quindi o con la vittoria di Nilfgaard o con il successo della Redania. Nilfgaard però non è stato in guerra solo con i regni settentrionali, ma anche con i clan delle isole di Skellige, che spesso si lanciano in razzie e incursioni proprio sulle coste dell'impero. L'espansione di Nilfgaard non si è spinta solo verso Nord, ma anche verso Sud, dove però ha incontrato grandi difficoltà, visto le popolazioni che vi abitano e soprattutto il clima di queste regioni più desertiche e assolate. Dopo questi brevi cenni circa le guerre del Nord e non solo, vediamo di analizzare le chiavi del successo di Nilfgaard. In primis ovviamente troviamo l'esercito, tra i più organizzati, disciplinati e potenti del continente. Oltre a una capace fanteria e una possente cavalleria, l'esercito del Grande Sole impiega sul campo di battaglia anche macchine d'assedio e potenti maghi fedelissimi all'imperatore. Il reparto più celebre dell'esercito Nilfgaardiano è la famigerata Legione Alba, che prende il nome dal fiume che cinge la capitale stessa, ossia appunto il fiume Alba. Tra i comandanti militari più celebri dell'impero troviamo Manno Coeorn, Tibor Egerbracht e Morvran Voris, quest'ultimi guidarono proprio la Legione Alba. Ma l'impero non si affida solo alla mera forza brutta dell'esercito, Nilfgaard addestra anche abilissime spie, l'intelligence degli oscuri è temuto in tutto il continente. Ovviamente spesso le spie possono diventare anche assassini e sabotatori, capaci di destabilizzare un regno nemico senza battere ciglio. Il celebre leader dell'intelligence Nilfgaardiano, Vatir Derrido, gioca un ruolo importante nella saga letteraria, visto che è tra gli organizzatori degli eventi dell'isola di Taned. Questa è un'altra complicata questione, chi ha letto i libri ovviamente ha capito a cosa mi riferisco. Anche la diplomazia imperiale è particolarmente involuta e raffinata. Nilfgaard si espande tanto attraverso la forza brutta quanto attraverso il negoziato. Va detto che circolano molte voci sugli ambasciatori degli oscuri. Secondo le dicerie, in realtà ogni ambasciatore è anche una spia. Effettivamente, quando è coinvolto l'impero, non si può mai essere sicuri della sincerità e della limpidezza dell'interlocutore. Accennavo qualche minuto fa ai potenti maghi di Nilfgaard. A differenza dei maghi dei regni settentrionali, i maghi del sud sono totalmente devoti all'imperatore, o almeno devono esserlo onde evitare di finire imprigionati o peggio. La pietà non è un attributo che si addice agli imperatori, soprattutto a Emir. Tra i maghi Nilfgaardiani più celebri troviamo Orturius Vigo e sua nipote Fingilla Vigo, maga dai capelli corvini e tenuti a caschetto. Nei romanzi è completamente diversa in tutto e per tutto quella della serie tv. Vi è poi la maga Assirvar Anid, che combatte anche sul campo per l'imper, ed è celebre perché riesce a portare con sé un gatto, tale Merlino, e di solito i gatti non vanno molto d'accordo con la magia. Nei romanzi non è assolutamente presente la dimensione autolesionistica della magia. Quella è una giunta, a mio avviso, insensata della serie tv. A Nilfgaard, oltre alla magia, si pratica con grande dedizione anche l'alchimia, sia per scopi civili che, diciamo così, militari. Per quanto riguarda invece la medicina, la città del sud più rinomata è Vicovaro, famoso in tutto il continente per i medici, ma anche per le spade. Passiamo ora ad esaminare gli aspetti più squisitamente culturali dell'impero del Grande Sole, partendo proprio dal Grande Sole, il simbolo che campeggia su tutti gli stemmi araldici dell'impero. Il Grande Sole è la legione ufficiale di Nilfgaard, nonché la più diffusa. Si tratta ovviamente di un culto solare, che ricorda il culto del Sol Invictus o Dimitra nel tardo impero romano. Così come il sole illumina la terra, così l'imperatore irradia i suoi sudditi con la propria sapienza e la propria guida. Il sole è al centro di tutto, esattamente come l'imperatore e Nilfgaard sono il centro dell'impero. Per quanto riguarda la lingua parlata nella città delle torri d'oro, adesso Nilfgaard ha questo suo soprannome, e se si basa sulla parlata antica, quella degli Elfi per capirci. Ciò sottolinea un certo debito culturale di Nilfgaard nei confronti del passato elfico del continente. Ovviamente è più evoluta e ha influenze di realtà diverse, ma in qualche modo ricorda appunto la lingua degli Elfi. A livello di mentalità, diciamo così, generale, Nilfgaard è molto più progressista e aperta rispetto ai regni settentrionali. Anche la tecnologia e la scienza sono globalmente più avanzate nell'impero, anche grazie alla ricchezza dell'impero stesso che consente un maggior investimento nella ricerca. Altro fiorello occhiello del grande sole sono le sue potenti e ricche gilde di mercanti. Il potere di queste famiglie di mercanti è secondo solo a quello dell'imperatore, tanto che a volte lo stesso imperatore deve guardarsi le spalle proprio dalle famiglie dei mercanti, sempre pronte a tentare di impadronirsi del trono scalzando il sovrano. La lotta per il trono imperiale può essere spietata, che sorpresa. Di solito la successione avviene per linea di sangue, ossia il figlio succede direttamente al padre, ma non sempre è andato tutto così liscio nel corso della storia dell'impero. Vi è stato ad esempio un usurpatore che, essendo un signor nessuno, ha comunque preso il potere con la violenza. Bene, giunti a questo punto, dopo aver esaminato un po' in generale alcune delle caratteristiche principali dell'impero, cosa possiamo dire di Nilfgaard? È davvero così malvagia, così espansionista e cattiva? La risposta ovviamente è un sì e un no allo stesso tempo. Nilfgaard è l'invasore del nord, è una potenza imperiale dedita alla guerra e alla conquista militare. Ma anche i regni del nord sono bellicosi e pronti alla battaglia. Quindi niente di nuovo sotto il sole, insomma. Nell'universo narrativo di The Witcher non esiste il bianco e il nero, l'ho ripetuto anche in altri video. Nemmeno Nilfgaard sfugge a queste sfumature di grigio molteplici. Nilfgaard non è malvagia né una forza civilizzatrice senza, diciamo così, secondi fini. O come dice la propaganda imperiale. È una compagine potentissima che mira a soddisfare i propri interessi economici e di potere, esattamente come fa qualsiasi altro regno o città del continente. Basti pensare che per i propri interessi Nilfgaard addirittura ha concesso un territorio agli Elfi, con la mediazione della maga Francesca Findeberg, come vi ho parlato nel video dedicato alle razze antiche. Alcuni Elfi hanno combattuto in una brigata imperiale, la brigata Vryad, e anche questo aspetto, dire il vero, ora che ci penso, ricorda un po' il mondo romano, dove i romani reclutavano anche non soldati di altre razze, ma di altri popoli. Spero che Netflix tenga conto di questa importante caratteristica della saga di Sapkowski, ossia sfumature di grigio, malvagità non gratuita, più interessi politici. È molto presente la politica nella saga di The Witcher, soprattutto quando si parla di Nilfgaard e dei suoi interessi. Emir e i suoi agenti si muovono con grande scaltrezza per meri interessi politici, non per gratuita cattiveria o per chissà quale piano malvagio. Quindi insomma, spero che la rappresentazione di Nilfgaard nella serie TV Netflix abbia un'evoluzione un po' più positiva e un po' più aderente ai libri. Bene, il video sostanzialmente è finito. Che dire, vi lascio con un paio di domande. Cosa vi colpisce di più di questo impero di Nilfgaard, l'esercito, i maghi, l'imperatore? E se avete anche altre domande riguardo Nilfgaard, fatele nei commenti. Come sempre, anche se volete sentirmi parlare di altri argomenti a tema The Witcher, indicatelo sempre qui sotto che magari poi vi faccio un bel video a riguardo. Prima di salutarvi, vi ricordo che potete supportare il canale attraverso l'iscrizione oppure l'abbonamento, ovviamente scelta libera. E vi ricordo che potete seguirmi anche sui miei principali canali social come Facebook e Instagram. In entrambi basta cercare Lorenzo Divus. Vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!